Ciao a tutti, questo è un altro video che sarà un video. Finalmente ci riusciamo con un nuovo video, dopo due mesi. Vabbè, ma c'è anche quello di ieri. Comunque, questo sarà un microvlog, perché ormai è già mezzanotte passate, quindi... Sì, esattamente. Ecco. Per aggiornarvi un pochino su gennaio e febbraio. Ehm, con cosa... Eh, io ho avuto un paio di problemi lì al collo e per fortuna adesso si stanno risolvendo. Quindi per questo non ci siamo visti a gennaio. Sì, poi io sono con la borzina bellina. Wow! Ehm, finalmente ci siamo rivisti. Io sto mangiando un po' di peli. Cappelli. Sì, capelli. Ehm... Ehm... E finalmente ci siamo potuti rivedere. Perché veramente non ci si poteva più. Ma che è sti capelli? Mantenete... Cosa vuoi tanto sbagliare? Ehm... Che domani parti. Ehm... Cioè oggi? Ehm... Alle 19 e 30. Come sempre. Sempre lo stesso treno. Non lo stesso posto. Ehm... Ehm... E comunque sì, siamo deficienti con questa cosa in mano. E infatti. Ci guardano come per dire... Are you fucking kidding me? Ehm... 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 Diciamo così. Ehm... 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 Diciamo così, no? Ehm... 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 Poi? Ehm... Ieri siamo andati invece a cinema. A vedere... Noi e la Giulia Anche quello lì è bellino Anche quello è bellino E il baccappotto Comunque in questo video Vogliamo salutare Un po' di tutti i suoi Anna Fisacane E il tuo ragazzo Pimpino Ovviamente Poi Sara, un salvatore Samuele anche Si dà un po' di tutti Chi vuole intendere Intenda Ciao Buongiorno, buonanotte Ecco, esatto